Eccoci in compagnia di Ali, purtroppo non è arrivato chiaramente il risultato che speravamo, è una nuova squadra, un nuovo progetto, c'è ancora evidentemente da lavorare. Prima buonasera a tutti, mi dispiace per questa partita, ma veramente abbiamo giocato una partita bellissima, il calcio tutto sapeva come è il calcio, è difficile, la prima partita abbiamo cambiato quasi metà delle squadre, tanti giocatori e troppo giovani secondo me, abbiamo parlato tutti quanti insieme prima la partita, ma tutti possibilità per il calcio, speriamo che il campionato facciamo meglio, mi dispiace per tutti i tifosi dell'Udinese, speriamo che la prossima facciamo meglio. Il gruppo è sicuramente unito perché ho visto anche un abbraccio collettivo prima dell'inizio dei supplementari perché volevate portare a casa questa partita, secondo te cosa è mancato all'Udinese questa sera per riuscire a strappare un risultato utile? Secondo me è mancato solo il chance, ma abbiamo lavorato tutto questo ritiro, l'ultima settimana a Udinese abbiamo lavorato veramente benissimo, solo una cosa, mi dispiace per tutti i tifosi ancora perché è arrivato allo stadio in full, è la prima partita nella Coppa Italia, è il nostro stadio, ma spero nella prossima partita contro la Subnoria qua facciamo una benissima partita, speriamo andiamo più in avanti tutti insieme, soprattutto dobbiamo essere tutti vicini ai giocatori perché i giocatori sono tutti giovani, dobbiamo essere più group, più famiglia così per usciamo quest'anno meglio. Ecco prima della Samp però c'è il Parma, mi pare di capire che dallo spogliatoio il messaggio che arriva è quello di rifarsi subito già dalla prossima trasferta. No, dopo la partita subito abbiamo parlato tipo contro i nuovi giocatori, abbiamo parlato bene, è arrivato anche il direttore, il mister, abbiamo parlato bene, ma questo non basta, dobbiamo lavorare più, la partita contro la Parma è più importante secondo me, è la prima partita in campionato, devi capire tutti quanti come è il campionato, come il Serie A è troppo difficile, dobbiamo essere più bravi, ti hai detto che dobbiamo lavorare più, è la prima partita in campionato contro Parma e speriamo torniamo con tre punti.